Si è conclusa con un lungo applauso dei numerosi presenti la serata di presentazione del video Gubbio City of Stone, la produzione con tanto di marchio registrato dell'atteso DVD in alta definizione dedicato a Gubbio, la sua storia e le sue tradizioni, firmato dal regista e videomaker Claudio Sannipoli. È stato il cinemastra ad ospitare la prima proiezione di un video che si propone con numerose novità sul piano contenutistico e tecnico, un'opera importante che si avvale anche della consulenza storica di studiosi locali Ettore Sannipoli e Gaetano Rossi e che soprattutto è apparsa fin dai primi trailer di straordinario appeal per le immagini inedite della città, dei suoi scorci e dei suoi eventi principali. Immagini aeree ripresse con il drone ma anche in standicam con angolazioni spettacolari e primi piani in mozzafiato. Dalla storia degli antichi Umbri e delle tavole ogubine all'epopea comunale con la guira di Ubaldo Baldassini fino al rinascimento di Federico da Montefeltro e poi i monumenti dal fascino austero del Palazzo dei Consoli al Teatro Romano fino a Palazzo Ducale e poi le tradizioni, il folclore, la gente e l'aspetto delle tante sacralità che caratterizzano la civiltà gubina, non ultima la presenza francescana con una straordinaria ricostruzione in docufiction dell'ammanzimento del lupo da parte del poverello. Un progetto che si arricchisce di un valore aggiunto dato dalla traduzione in undici lingue confezionato in pregevole veste grafica con la collaborazione di artigiani locali. Un progetto che nasce dal basso, come lo ha definito lo stesso autore che ha lanciato una campagna di crown founding delle scorse settimane che ha avuto grande riscontro attraverso il sito di Studio San Nipoli, proprio perché mi piace l'idea di condividere con la comunità augubina e con le associazioni la nascita di questa nuova produzione. Nel corso della serata sono stati applauditi anche l'autore delle musiche originali, Michele Fondacci, e i collaboratori di San Nipoli che hanno completato il montaggio, Francesco Ventanni e Davide Brugnoni. Premiati anche cinque partecipanti al concorso su Instagram con le foto più belle di Gubbio da una giuria guidata da Gianluigi Traversini. Al termine della proiezione, la cui presentazione è stata curata dal direttore di TRG Giacomo Marinelli e Andreoli, hanno portato il loro saluto il sindaco Stirati e il vescovo Cecco Belli che si sono congratulati con l'autore sottolineando il fascino delle immagini e del montaggio e la prevalenza altamente culturale dei contenuti del video. Claudio San Nipoli, regista e videomaker Gubbino, ha iniziato la sua avventura professionale negli ambienti di TRG e dell'emittente radio RGM, ha collaborato con Dana e Production e oggi è diventato Studio San Nipoli. Il videomaker Gubbino ha anche firmato gli spot finanziati dal GAL che nei mesi scorsi sono stati trasmessi nelle reti Rai per promuovere l'Umbria. City of Stone sarà in vendita dal prossimo 15 aprile nei punti vendita indicati nel sito studiosannipoli.com